È uscito di strada finendo in un canale di scolo contro un muretto di un'abitazione. Incidente mortale nella notte all'angolo tra via Bollana e via Caltana a Villanova di Campo San Piero. Nell'impatto violento il conducente della vettura ha perso la vita. La vittima è Thomas Gastaldello, un 41enne che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno estratto l'uomo dall'abitacolo, ma nonostante i soccorsi immediati del 118, per il 41enne di Villanova non c'è stato più nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le cause dello schianto. Gastaldello viaggiava da solo, stava tornando da una serata con amici insieme alla moglie, ma viaggiavano su due auto distinte. Lunghe le operazioni di bonifica durate oltre quattro ore per rimuovere la macchina rimasta incastrata tra il canale e il muretto dell'abitazione.